amici non di lo zodi football link sotto in descrizioni iscrivetevi al gruppo facebook pian piano stiamo crescendo anche la vi ringrazio ulteriormente per il raggiungimento dei 2000 iscritti sul mio canale tutti veri e non comprati quindi lo sapete non vi chiedo più niente se vi va di mettere ogni tanto qua che vi piace commentate e commentate possibilmente non come fa qualcuno che prima commenta e poi o cancella lui o youtube lo cancella perché io una cosa che gastevo e offendo un id personale senza sapere chi è chi non è sempre sul gioco una cosa si offende però sul personale sul personale e sulla famiglia ragazzi io d'ora in poi non l'accetto più perché ce l'ho conservato lo screenshot perché qualcuno lo sa anche se tu o youtube poi lo limiti il commento che fai a me rimani memoria perché sono proprietario del mio canale quindi brutta testa di cazzo che non sei altro allora prima di tutto io posso offendere chi cazzo voglia mi pare piace sul mio canale perché è un id qui dpsn dove ci si può nascondere chiunque una cosa è io che ci metto la faccia e ti vengo a castimare ma non vengo a dire qualcosa sul personale soprattutto sulla famiglia ragazzi state attenti state attenti chiaro chiarissimo spero di essere stato chiaro io sorvolo perché alla fine vabbè lasciamo perdere lasciamo perdere quindi ragazzi oggi registro e in questi giorni fino a venerdì ragazzi ahimè io non posso registrare quindi purtroppo oggi poi giorno di cassa integrazione ma quando non si lavora si fanno questo 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 e quest'altro saluto stefano saluto antonino saluto lele saluto gialluca saluto al buon stefano ferrari dj e andiamo avanti saluto anche carmine il nuovo moderatore di del mio canale youtube saluto tutti i belli e brutti ragazzi non vi offendete pian piano ritorno a salutare tutti e dicevo il giorno di cassa invece di fare questo questo e quest'altro cioè di registrare non ho fatto un cazzo su da play ma ho fatto altri servizi che non sto qui ad elencare quindi volevo portarvi registrare tre quattro video e portarli uno al giorno adesso faccio così se riesco massimo vedrete video brevi ragazzi divisi per non lasciarvi senza fino a giovedì ragazzi perché purtroppo purtroppo per fortuna lavoro di pomeriggio e la mattina con la bambina e poi meglio si lavoro e non posso proprio accendere la petrania e fare l'accesso giornaliero sperando di farlo detto questo ma andiamo a fare in culo quello che ha offeso diciamo offeso mia madre e avanti al giorno ammetto di oggi un po di monetine qua destra sinistra gli abbiamo chiuso il video con una bella sconfitta ragazzi mi avete risposto in tanti per quanto riguarda la portare che siamo ritornati sopra i 3 mila 3 milioni ce l'avamo so che già 3 milioni sono sbagli comunque non lo stanno a comprare il portiere i contratti miliardi man avanti tutti quanti che hanno preso quel portiere a cinque stelle a me non me la può true cazzo niente ragazzi mi avete tutti con c'è la maggior parte mi avete detto va bene per i mondiali per ragazzi non so neanche quando cazzo iniziali e portarli questo è il problema se venerdì perché a me poi piace giocare online questa volevo fare una partita ogni volta perché porto nel portogallo gioca il portogallo vi porto il portogallo almeno il giorno prima vuole andare passo per passo con il portogallo poi come cazzo aveva poi vediamo e ho messo leggenda sarà molto difficile poi qui all'aggiunto contro coma ma tanto lo sapete tutti quanti questa acqua contro con ragazzi mettetelo come cazzo volete la fada in due minuti la facciamo gli altri challenge non ci sono online perché le mette i giovedì scusate queste abbiamo completati tutti hanno messo pacchetti nuovi ragazzi a me non me ne può fregare di meno ci conserviamo le nostre belle monetine hanno messo il giappone l'uruguay qua potete beccarli tutti quindi sono 800 800 monete qui tre giri ma non me ne può fregare di meno qui la spagna neanche giappone avevano worldwide niente avevo girato il mio peccato sapete chimica qui hanno messo ageli giovani c'era e andiamo avanti un cazzo qui i contratti mirati non mi piace nessuno non voglio nessuno il primo mi scade il 30 novembre il 30 novembre 3 novembre poi tre stelle non so chi cazzo prenderà tre stelle fanno tutti cagare l'unico che posso prendere tre stelle questo del portogallo raga il resto non mi piace non mi piacciono ma giusto per conservarlo è 28 anni ma ce lo teniamo lì fresco fresco possiamo trovare davanti coglioni blocca e non si può pompare arriva 90 ok ciao tolto buoni ma la docina diciamo in poi sperando che c'è qualcosa di nuovo ok però ho messo i pacchetti dell'inghilterra ragazzi non mi interessa nessuno perché io ho sterling non mi piace che non mi piace non mi piace non mi piace cielo e moesa invece sp cielo non mi piace uscirà uscirà usciranno tanti fa cacare fa cacare e non mi interessa germania che mi ce l'ho ne ho ne ho due si è bloccato no ma no no che c'entra no nico al chimico noi al cielo rudiger cielo raga io ce l'ho quindi chi cazzo e non lo so sul baffan cu questo vai a cagare questo non so chi è questa toni anche ma bene era forte anche se giovane ma l'hanno rovinato anche se abbastanza veloce avers chimi ce l'ho c'ho il td e mediano ce l'ho tutti e due quindi niente di che abbiamo finito agenti bassi cielo giappone francia ok basta basta non c'è più niente ha finito fini non c'è più niente finito non ci perdiamo in chiacchia abbiamo chiuso raga qua la vedo molto dura la vedo molto dura salire non se ne parla più perché su quattro partite ho fatto quattro punti in teoria o 6 3 6 9 12 6 3 6 9 12 15 18 e 4 22 punti in teoria posso ancora perdere un'altra e vincere cinque ragazzi ma è molto ma molto dura oppure 3 6 9 12 12 e 4 16 e niente proviamo a salvarci ragà io prova salvatice poi vediamo perché io non l'ho mai fatta divisione 3 la prima volta sto giocando con questa è ritorniamo contro piede veloce ragà parliamoci chiara beh mettiamo qua possiamo vedete ne ho due telecini che io non lo sapevo ragà quelle più veloce vabbè facciamo così proviamo lui o lui dai iniziamo così vediamo come va raga vai un video e chiudo prova a fare due tre video ve li lancio in tutti questi giorni ragazzi ogni mattina vi lancio un video facciamo un adesso uno facciamo uno ogni ogni non lo so alle 13 b quattro tacche come sempre ha volevo salutare anche gli amici di peso school 2022 il buon fabrizio non ci dimentichiamo vento dell'est no raga questa la quinto questo un ex divisione 2 che uno che non riesce più ad arrivare in divisione 2 ragazzo e io so chi è speriamo che non laghi no perché ce la mette dell'italia ancora puttana maia faccio vedere come gioco sono difesa 3 ma ci chiamo a specchio minchia questa raga vabbè tanto ti appalla pure a me io voglio provare a fare così ahimè io so che è lui ragazzi sto solo trovando ex divisione 1 non è normale poi vedi un altro e non voglio un altro youtube e non voglio fare i nomi becca solo divisione 4 5 6 ed è un ex divisione lui lui raga non è normale sta cosa non è normale non è normale raga non è non mi sto buttando avanti per non cadere ma non è normale non è normale raga non è normale calcettoni bianchi tutti e due bene grande conami non è normale non è normale non è normale che cazzo ti fischi questo è il skill ovviamente anche divisione 1 gol purtroppo so chi è non lo posso neanche aggastimare questo è il problema ma vabbè ma guardate come cazzo sono fallosi ma anche niente se ne è andato eh no e perché non l'ha tirato eh perché glielo dai a lui eh dai no vabbè no e quindi perché scusa ah oh no 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 ci prova con un pallone profondo ma non è advedola e vabbè e vabbè e'dai ma tira alla morte da mamma tua e con occasione di controviede madness di chi è col david un animale come non è fallo no ecco è solo no vabbè dai ma come cazzo si fa linea bassa linea bassa non ci credo non ci credo ma guarda il buco che schifo di gioco solo ex divisione 1 vedi vabbè va fischia tutto contro di me tutto che fallo è ma che fallo è che fallo è guarda gliel'ha dato a lui guarda ma dove cazzo vai e perché ti fermi ti fermi che fuori gioco è dove no vabbè dai vabbè 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 gura alla morte la mamma si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari gira cercano un'azione veloce intercetta il pallone fermo un'azione che rischiava di diventare pericolosa occasione per il controviede ah fischia ecco ecchi tu si gol che culo ci ho provato un fantastico tiracolo per un grande gol una confusione da urlo vede la palla cerca di spinto la volè e caccia con grande convinzione un gol davvero da brividi conduttano con una rete in più per gli avversari a chi ha un gol messi va alla ricerca di un compagno davanti bell'anticipo ora possono ripartire vabbè fischia o qualche volta a mio favore qua definta la parte va 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 guarda che pezzo di metà di gioco va beh dai che non stai giocando il tuo fratello dai ma gliel'avevo to vabbè 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 lo spazio dove perché ti fermi ci prova con un pallone profondo non ho mai fatto la finta non c'è la maestra ma la nera glielo data ok no no madonna mia ma perché si aprono così perché perché può sembrare semplice ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica c'è Sì, 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 sì. 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 Non si sono disuniti, posso tornare davanti. Ben colpo di testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Sì, 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 sì. Ecco qua, va bene. La traiettoria che ha dato l'impatto fondamentale dei veri che ha dato. Ma come, va bene. Ma come, va bene. guardate, guardate, guardate. Beh, che cosa? scusami. Mamma, va bene. Mamma, va bene. E dove cazzo la dà quella, ma... E dove cazzo la dà quella, no? Eh, va bene, raga, è andata. Ma è andata la dà quella, non potevo farci nulla. Vabbè, è semplicemente cagato sotto, basta. No, cercherà di metterla in mezzo. Guardate, a perdere tempo, guardate. Che vigliaccheria, va. Guardate, a perdere tempo, guardate. Guardate, guardate, a perdere tempo, ragazzi, avete visto? Passano i secondi. Decide di non rischiare. Che schifo, vergognati. Ti sei cagato sotto, vieni me la scrivere sotto. Ti sei cagato sotto. Tanto Konami, tutti a me li sta dando, tutti ex divisione 1, tutti ex divisione 1. Vergognati Konami, vergognati, 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 vergognati. Vergognati Konami!